ciao raga benvenuti o bentornati sul mio canale io sono Eleonora e lei è mia figlia oggi faremo un video super mega speciale di tendenza poi in questo periodo che cos'è viola il back to school sì perché questo back to school super mega tanto atteso da tutte noi mamme ma anche dai bambini perché dai ragazzi perché perché abbiamo vissuto un periodo dato dal covid pesantissimo perché pure lei ha fatto lo studio a distanza ma è stato come è stato difficile pesante e quindi cosa facciamo ci cominciamo a preparare ci diamo un'idea di quello che vogliamo fare il primo giorno di scuola perché perché logicamente lei va in prima media quindi ci darà a tutte le ragazzine o alle mamme delle ragazzine di quell'età no i consigli per quel range di età e io parlerò con voi mamme quindi sarà un video che potrà aiutarmi e interessare molte fasce d'età quindi prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like e un bel commentino dopo allora viola ci ricorregge un bel commentino mi raccomando aspettiamo un attimo raga vi state scrivendo diglielo guardiamo vi stiamo guardando bravi bene quindi che facciamo iniziamo cosa ci interessa il primo giorno di scuola allora viola ha preparato un po tutti quelli che sono i suoi acquisti per il primo giorno di prima media benissimo ma partiamo dal make up perché perché il la fit soprattutto per chi va alle medie è super mega è importante cosa ti vuoi mettere il primo giorno che pensi dai qualche consiglio alle tue poetanee io penso di mettermi una maglietta a maniche corte poi sopra se ho freddo una felpa e dei jeans benissimo lei è andata in pista anche con le mega felpone quelle belle lunghe alla ariana grande quindi viola stappi stiamo facendo un ordine sushi in dove acquisterà non vi dico le cose mi ha fatto un carrello che non devo andare a lavorare sei mesi va bene comunque un mega shopping se vi interessa facciamo un mi facciamo vedere quello che abbiamo acquistato sì mi seguite lasciate lo cielo sui commenti benissimo bene iniziamo allora viola si trucchera io vi farò vedere i prodotti che invece io ho fatto come vedete ho un look semplicissimo per il primo giorno di scuola quando accompagnerò viola perché ve lo dico i giorni a seguire sennò andrò col pigiama no scherzo però insomma non è che mi stop al muro sarà un trucco semplicissimo magari un po di mascara ma il primo giorno voglio andare un pochino più se no per sì semplice ma un pochino più curata non solo il burro cacao benissimo allora tu cosa vuoi mettere allora innanzitutto il mascara poi abbiamo qui della abbiamo uno a caso della banana beauty e poi poi un filo di eyeliner ok ora lo prendo e un assetto molto nude quasi che non si vede ok io soprattutto per la loro età volevo farvi vedere qualcosa di super low cost ma tanto questa settimana vi farò un make up super low cost con le aziende quindi non adesso ho questo qua che vi faccio vedere io invece sono andata con vi facciavamo vedere le due una parte un po più ai cost e una parte di un low cost bene io ho messo mascara ho fatto le sopracciglia utilizzando la medium deep di benefit dove troviamo tutte queste queste malettine è dedicata solo alle sopracciglia la mia salvavita la palette del mio cuore la bond is way the natural nude non mi ricordo mai i nomi però lei è la più utilizzata sapete quante palette ho e lei e penso che una palette così con questi toni nude possa andare bene anche se vuoi mettere un pochino infatti io stavo per dire che magari potrei mettere anche un pochino di ombretto molto chiaro sì questa volta io utilizzato il un correttore utilizzato il fondotinta di kiko dell'ultima collezione lost in amalfi nella colorazione 03 e poi sono andata a fare il contour con l'eye brush bronzer di charlotte tilbury ma la colorazione è troppo chiara quindi la sono dovuta andare intensificare come vedete è troppo chiara per me prenderò la 2 sicuramente vedete proprio chiara e ho messo la terra anche proprio con per ridare tridimensionalità all'occhio e sicuramente quando andrò a fare un trucco super semplice che metterò quindi fondotinta mascara e un po di contour darò tridimensionalità con la terra che utilizzo per fare contour l'altra cosa che ho utilizzato perché il primo giorno di scuola facciamo magari una foto con i nostri figli vogliamo essere un po più sveglie soprattutto dopo tutti questi giorni anche perché io sono una mamma che sta a casa quindi vi volevo far vedere il lo vedi viola tu al posto mio il un attimo che lo troviamo e torno da voi bene l'ho trovato stavo cercando sempre di charlotte tilbury il blush non mi veniva la colorazione tutti i prodotti che di questo che ho utilizzato questa volta sono della collezione pillow talk quindi questa bellissima colorazione che da un po risveglia l'incarnato ma senza dare troppa troppo spessore al make up quindi questo lo può utilizzare anche lei ma sicuramente i trucchi che utilizzerà lei saranno sicuramente più lo post a parte che lei sfionda qua nella mia postazione utilizza quello che vuole e fa bene per carità però vi faremo vedere anche un make up super lo posto con i trucchi di essence di catrice quindi rimanete stay tuned questa settimana perché tanta roba l'altra cosa che io ho utilizzato quindi blush andiamo alle labbra come labbra ho utilizzato come vi dicevo sempre di charlotte tilbury nella pillow talk matt questa è la tonalità sbocciata sulle mani e sulle labbra e questa la colorazione con un velo di matito ho messo la stessa matita abbinata sempre di pillow talk di charlotte tilbury questo è il look look terminato avevo messo un pochino di powder per settare il tutto una traslucent di essence la you better work che con la quale mi trovo benissimo e la voglio terminare anche se l'ho messo all'opera da poco e c'ho ancora da fare un bel po' bene si ora vi fa vedere viola quali saranno i trucchi che lei utilizzerà eccoci di ritorno con il make up di viola terminato come vedete praticamente è super neutro è pochissimo viola mi piace tantissimo quindi cosa hai utilizzato cosa consigli alle tue amiche che ti stanno guardando di utilizzare ho messo un pochissimo ombretto no loro quasi non ti vedono ho preferito mettere poco ombretto che invece dell'eyeliner proprio il primo giorno di scuola sicuramente metterò io ombretto invece e ho utilizzato sempre la palettina body sway perchè è super neutra e invece il giorno dopo sicuramente metterò dell'eyeliner che penso che metterò questo che è di eye art revolution mi sembra si poi mi sembra chiamarli mi so però proverò al bietanle pecciso di olvietane mi sembra chiamare le sopracciglia e le sopracciglia con questo che è il di astra lei brow lover mascara il mascarino di astra dove lei avendo le sopracciglia molto forte e fortunata lei Sicuramente Non farà meno Di pettinarsi le sopracciglia E poi? Poi questo mascara che è di Kipo Sì Mi sembra che anche adesso c'è il periodo delle offerte A 3,99 euro quindi top Poi questo rossetto Che è anche quello che ha messo la mamma Di Ciclo Tilbury che è un neutro Non vi consigliamo questo per le vostre figlie Perché è super costoso Ma noi ce l'avevamo qua Abbiamo deciso di utilizzare questo E quindi il suo look Non lo prendiamo dopo Il suo look è super super easy Super tranquillo Però lei ha detto che le piace così Logicamente deve andare a scuola Non hanno un rave E quindi deve andare insomma composta Anche per rispetto ai professori Se non lo so Professori Ecco quindi deve essere carina Curata Ma non eccessiva Quando vuoi uscirà Con le amiche Il ragazzo Quando c'è avrà 42 anni Si truccherà Si truccherà Quanto vuole Ma passiamo ai consigli concreti Cosa portare il primo giorno di scuola Allora Lo zaino E l'astuccio Allora io ho preso Sono delle SPAC Quelle che ho preso io Non so SPAC SPAC Ok E sono entrambi grigi Ha preso questo qua Lo facciamo vedere Ha preso degli SPAC Questo zaino qua Bellissimo Cioè a me è piaciuto Grigio E lo stesso Lo zainetto Ha Si lo zainetto L'astuccio L'astuccio però Tipo Non so Tipo il beauty Un mini beauty Una Poscettina Una sacchettina Si poi Così Poi ve la faremo vedere Si Vi facciamo vedere tutto Ci è arrivata Ma ci è arrivata A casa della zia Si E ce l'ha là Si Poi Per continuare Vi facciamo vedere Quindi diciamo Che il primo giorno di scuola Cosa si porta Cosa vogliamo portare Allora vabbè Ovviamente Lo zaino L'astuccio Con dentro le cose I libri no Il primo giorno di scuola Non si porta Si porta i libri Secondo me no Lasciatecelo scritto nei commenti Secondo me no I libri Si porta il quaderno E il diario Ma i libri no Perché uno non sa Poi vuole il cambio della scuola Cioè non è che va Dalla terza alla quarta Ma poi vedo Adesso mi ha chiesto anche Certo Però Lasciatelo Se Brave Lasciatecelo scritto Nei commenti Dateci un consiglio Perché secondo me Facendo il passaggio Dalla quinta E la prima media Non c'è bisogno Di portare Libri Però Scrivetecelo Anche perché sono un bel po' Ma ora Vi facciamo vedere Ora Vi facciamo vedere Le cose Che abbiamo acquistato Per Più in avanti Le prendiamo Prendiamo tutte E ve li facciamo vedere Eccoci con il mallocco Allora Prima di tutto Viola ha tirato subito Sui quaderni Noi abbiamo acquistato Questi qua Con la carta più spessa Della monocromo Che so Che hanno una Pastello Tutti color pastello E sono Guardate Qua è stato pure Daniele E solo Hanno un quantitativo Di carta Superiore A quegli altri In maniera tale Che se vuole utilizzare Una penna Liquida O deve disegnare Non Macchia Poi io sotto Benissimo Poi Questa astuccia Qui mi piace tantissimo E ha tipo Sempre della monocromo Tiralo fuori Perché se no Questo l'abbiamo preso Per scorta Non lo so Io penso Sono contenta Che le ha prese Due Uno Piola Però così non ti vedo Non ti dico In su Perché sicuramente Poi lei Essendo femminuccia Avrà bisogno Di una sua Poscettina E Logicamente Quest'anno Ci sarà Anche La mascherina Obbligatoria Quindi Dovremmo Sempre averne Due o tre A portata Di mano Allora L'astuccia Mi piace tantissimo Perché è Olografico Trasparente E Cioè Io l'ho presa azzurro Lei ve lo descrive Io ve lo faccio vedere Però C'erano anche Tanti altri colori Però a me piaceva appunto Azzurro E abbiamo preso questo Poi Poi Ovviamente La colla Appoggio le cose Una colla Della Brit Poi Tiriamo su tutto Chiola Pino Chiudi di passo E chiudi Ok Poi I colori Questi sono pennarelli E questi Sono pastelli Abbiamo preso Giotto Supermina 24 Perché Non è che E Le pennarelli Invece Questi qui Sempre 24 Poi va bene Matite Penne Tutto quello Che serve Cancelleria Vorbici Ecco La matita Già L'abbiamo Terza Terza E vabbè Questo Abbiamo abbinato Pure Le borbici Ma per terminare Cosa abbiamo preso? Senta Di questo Allora Io la faccio vedere E tu descrivi Vai Il diario E anche qui C'è Rimasto In tre colorazioni Però Io non le ho bianche Così ci disegniamo meglio Io Mi piace tantissimo Quindi Praticamente All'interno Trovate Tutti questi Adesivi Che possono Stickers Scusate Sono vecchia Possono essere applicati Sulle varie pagine Quindi loro Possono andare A Decorare Questo Diario Diario Come meglio Vogliono Io Spingo Sempre Per i diari Così Soprattutto Con la copertina Perché se no Si arriva Vedete La copertina Di plastica Che lo protegge Altrimenti Si arriva A metà anno Che il diario È da Gettare E poi Questo Qui l'ho preso Bianco Anche perché È il più grande Tra i tre Sì è vero Gli altri Erano leggermente Poco Ma leggermente Più piccoli E poi Gli altri Ma Questo Non so È sempre Firmato Bio E niente Raga Pensiamo E il video si è finito qui Pensiamo di avervi detto tutto Di aver Ora Andremo ad approfondire Determinate cose Nel video A venire Futuri Quindi Per un trucco Super low cost Rimanete Sintonizzate Perché Lo vedrete A breve Forse direttamente Mercoledì Non lo so Vediamo E niente Se volete chiedere qualcosa A Violina Lasciate Tutto nei commenti Pure Viola Ha un canale Di Gacha Life Vi lascio Il suo canale Nell'info box E niente Questa è stata La mia Uspitina E raga Io auguro Un buon rientro a scuola Tutti A tutti E a tutte A tutte le classi Elementari Medie Per noi mamma È sempre Una grande Grande Una grande emozione E Bene Grazie E niente raga Noi vi salutiamo Sì Vi mando un Bacio grande Iscrivetevi al canale Vi abbraccio forte Ciao raga Ciao Ciao